Quello che vediamo qua è un Wikipedia Reader, ovvero un dispositivo che ci permette di accedere a tutte le definizioni e termini dell'enciclopedia online Wikipedia. Il dispositivo è leggero e compatto, non ha una connettività, tutte le informazioni sono salvate al suo interno, in una memoria. Come vediamo basta schiacciare Search per accedere a una ricerca di termini, per esempio Intel, basta premere su uno dei... è tutto touchscreen ovviamente. Basta premere e vediamo qua la definizione con le ricerche, con i link all'interno. Quindi una vera e propria enciclopedia da tenere sempre in tasca, al momento è disponibile purtroppo solamente in lingua inglese. Curiosa la presenza di un tasto random che ci porta a un termine random per accrescere la cultura di una persona.